Passa su fifagoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show Siamo tornati con FIFA 16 pronti per un nuovo spacchettamento Guardate che squadra della settimana No no no, guardatela bene Cristiano Ronaldo che ho perso il conto di che if sia Messi 96 e basta Però ragazzi basta per farci spacchettare Siamo pronti a spacchettare questa volta, dobbiamo farlo Ci sono anche i Man of the Match con Lukaku, Denei e... Boh C'è la doppia occasione, quindi doppia possibilità di trovare un giocatore della squadra della settimana Io vi ricordo però che 2x0 fa sempre 0 E quindi oggi andremo a spacchettare come se non ci fossero domani Ragazzi superiamo i 20.000 mi piace per questo spacchettamento E subito ne portiamo nuovi Ma adesso ragazzi ci abbiamo un conto in sospeso con FIFA E... Ho inventato una cosa nell'occhio Vaia Vaia la base è il nostro primo, primo pacchetto Eh beh, eh beh Le tete Vabbè Però almeno le tete Baccali, attenzione Baccali Questo è un upgrade Vediamo quanto vale Un cazzo però va bene Ma mia ragazzi abbiamo iniziato proprio alla... Non lo so Non lo so Proprio un inizio frizzantino La cazzetta Mi devi portare subito bene Eeeh Due pacchetti a cazzo di cane Però Messi può portare Messi E Messi sto giro ci devi portare il tuo fratello nero No Perfetto Tre pacchetti Manco un oro raro A parte quel Baccali Non lo guardo ragazzi Ve lo giuro eh Sto così e non guardo niente E TD Ivanovic Va bene Biseva Biseva No No lo avevo scartato Porca trota Abbiamo trovato Biseva Ragazzi Guarda Un vedevo l'ora Cioè Giocatore fenomenale Talmente forte Che lui ha fatto il giro E è tornato indietro E è diventato scarso Immaginate Ma adesso No Oh ragazzi Se non mesce manco un if Con la doppia possibilità Di trovarli Veramente Sto gioco è uno scandalo Guarda qua Guarda qua Canna Abbiamo trovato un cane Il cane Hurricane L'uracano No No Vitiello Ragazzi Vitiello Ho già mangiato Grazie Ogni volta dico Perché Ma perché Però Ragazzi ogni volta No dico Caspita Dai FIFA FIFA dai Su te do L'ultima possibilità Guarda Quest'anno Uno schifo Forse col potere Dello skip Manco col potere Dello skip Dai FIFA Fammo piacere Oh In favore Oh Sto pure male Oh Perché Tutte le case Evi C'è qua Ancora Saponetta Come ci piace a noi Quindi Sergio Con una guerra Con quella spazzoletta In testa Ma no Oh Mi sta Da tutti I italiani Inutili Osoro Osorio Osore mio Stam pronto a te Eh si Odici Mamma mia Chier 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 Abbiamo pure trovato Gesù Gesù te prego Dillo te Dillo te Fammi trovare qualcosa Te prego Sei l'uomo Che potrebbe portarci Un if Ma no Porta Manco gli oro Manco gli oro Ragazzi Manco gli oro Non so più che fare Non so più a che santo votarmi Non so più che fa Ma pure l'argentoni Cioè Ragazzi No vabbè Ragazzi ve lo giuro Se non trovo Se non trovo Manco uno forte Questo è l'ultimo Pacovening Che faccio Caligiuri Antonio Dorado Abbiamo trovato Dai Che cazzarola Staffa La fifa Veramente Ve lo prometto Se non troviamo Nessuno De forte Veramente Smettono Non spacchetto più Me ne fai niente Perché Gli stiamo a regalare Porca zozza Guarda qui Te prego Fa il tuo dovere Il tuo dovere da merda Ma dai Stiamo a sfiorare ridicolo Mille E cent No Cazzo dico 1500 crediti Ma non lo so Non so più che dico Guarda Vi non trovare nessuno Rossettini Stiamo a trovare Tutti italiani Non ci faccio una ceppa Forca miseria Messi Ma che me guardi Addì Attenzio Ultimi tre pacchetti Ma no Venga Giosuè Pisculichi Pisculichi Ma non mi giro Non me ne fai un cavolo Me ne vado Me ne vado qua Guarda No Guarda 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 Se mo Le gambe Dove ATT No Vabbè A parte ATT Tedesco Non esiste Fulmino di Pegasus TD Arbeloa Ma che c'è Dove Dove Fulmino di Fernandez Damme Dammene uno Bello Dammene uno Forte Timi tre Me sabbo Non lo so C'è questa Andata a sbattere La capoccia Al carpi Non abbiamo trovato Un cazzo Non abbiamo trovato Manco giocatori Forti Sta cosa Mi sconvolge Mi sconvolge Porco due Guarda qua Bu Lusting Ultimo pacchetto E se non trovo Nessun giocatore Forte Ve lo giuro Questa è l'ultimo Pack opening Che faccio su FIFA Non me ne frega niente Mi sono stufato Di regalare gli soldi Quindi Forza Mike Forza Mike Forza Mike Grazie FIFA È stata un'avventura Bellissima E S Non è forte Perfetto Ciao a tutti È stato un piacere Ragazzi E li sondo Cioè Vabbè ragazzi Devo dire che per questo video Probabilmente L'ultimo pack opening Che farò Per quanto riguarda FIFA Possa essere tutto Regà Io ci ho provato in tutti i modi Ve l'ho portato Fino all'ultimo Ma cioè Adesso come adesso Spacchettare Solamente Butta soldi Vabbè Pure prima lo era Però Veramente regà Doppia possibilità Dei miei coglioni Cioè Quindi ragazzi Voi potete farmi sapere Che ne pensate sotto Nei commenti Mi dispiace Veramente Mi dispiace Però Cioè Ci ho provato Fino all'ultimo Ma così non va bene Il gioco Come gameplay Quest'anno Non mi piace Per un cazzo È scriptatissimo Poi pure Ultimate Team Me l'hanno rovinato Vabbè Me l'hanno rovinato Già L'anno scorso Di questi tempi Perché è un anno Che hanno messo Il price range Ragazzi Sono sicuro Che ci sarà Il caos Nei commenti Perché chi dirà No è meglio Chi dirà Chi è peggio Fatemi sapere La vostra Se vi va Io comunque Penso che per il momento Rispaquetteremo Sicuramente Quando Quando ci avrò voglia Adesso Non mi sento Dei farvi promesse Per me Questo è l'ultimo Per il resto Ragazzi Vi do appuntamento Ai prossimi video Comunque Continuo a fare qualcosa Su FIFA Però adesso Non lo so Ragazzi Ma ha presa male Quindi va bene così Un saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Il bollo Ma la bolla Il passerò Ma tutti quanti Amano Mike Ciao Ciao Tutti quanti Amano Mike Ciao Ciao